Appuntamento venerdì 5 aprile al Berlin di Sassari con Jazz Art, mostra di pittura e concerto di Roberto Sironi. Accompagnato da Elisabeth Baugema al violino e Marco Lais alla chitarra, Sironi propone al pubblico sassarese un viaggio tra generi. Nallo swing alla musica classica, dal jazz alla romanza, il repertorio del musicista milanese, è un melange di grande stile e dei sapori cinematografici che fanno di questo artista un punto di riferimento nell'attuale panorama musicale europeo. Il recital racchiude in sé una ritrovata canzone d'autore con interpretazione di alcuni brani originali della sua produzione. Musicista, pittore, scrittore, autore di teatro, Sironi si esprime attraverso vari media legati da temi ricorrenti, l'universo bicicletta, visioni metropolitane, il mondo del vine o quello musicale. L'artista è esposto a Parigi, Lausanne, Milano, Torino, Lione, Hong Kong e Cannes. L'inizio della mostra è fissato per le 20 al Berlandi Sassari, a seguire alle 21 il concerto.